Dopo il grande successo di Blanca Fiction dell'Anno, il Festival di Sanremo, arriva anche Don Matteo, Maria Chiara Giannetta, torna la Capitana Olivieri. Come sarà passare da Don Matteo a Don Massimo? Sarà un passaggio molto dedicato per i personaggi, molto sospettoso, non riusciranno a capire fino in fondo che cosa è successo, soprattutto all'inizio. E per noi è stato molto commovente, però allo stesso tempo lo stesso Terence ha accolto Raoul, l'ha fatto sentire a casa e la stessa cosa abbiamo cercato di fare noi. Don Matteo è una fiction che è entrata a pieno titolo nel cuore di tutti gli italiani, perché? Perché le cose di cui parliamo, gli argomenti di cui trattiamo sono molto vicini alle persone che lo guardano. Ed è una serie quotidiana che affronta la quotidianità. Ti abbiamo visto, ti abbiamo apprezzato al Festival di Sanremo, che emozione è stata Maria Chiara? E volevo anche chiederti, il Festival è davvero lo specchio del nostro paese? Beh, il Festival è una parte dello specchio del nostro paese, è una parte importante, però ovviamente in quella sua parte lo è. E sì, è stata un'emozione forte, però mi sono divertita tantissimo.